Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Il caso di oggi apre un doloroso capitolo nelle cronache irlandesi, toccando temi come il bullismo, l'isolamento sociale e il peso delle interazioni adolescenziali. Questa storia ci svela quanto possano essere fragili i confini tra vulnerabilità e tragedia. Il dramma si intreccia con le difficoltà quotidiane di una giovane vita, sollevando interrogativi su come la società possa proteggere i più indifesi e prevenire il verificarsi di certi orrori. Anastasia Kriegel, detta Anna, nasce nel febbraio 2004 a Novokuznetsk, una città della Russia, precisamente della Siberia sud-occidentale. La vita di Anna, fin da quando vede la luce, non è affatto facile. Subito dopo la nascita viene portata in un orfanatrofio e poi nel 2006 adottata dai coniugi Geraldine e Patrick Kriegel, lei irlandese, lui francese. Quindi Anastasia, all'età di due anni, va a vivere in Irlanda. Geraldine e Patrick sono immensamente felici, non vedono l'ora di accogliere questa bellissima bambina, la loro prima figlia, nella loro famiglia e nella loro quotidianità. Geraldine è dirigente di un'azienda statale che opera nel settore dei trasporti pubblici, mentre Patrick è un professore che tiene diverse conferenze in lingua francese al Dublin Institute of Technology. La famiglia, per l'esattezza, abita a Lakeslip, una cittadina situata nel nord-est della contea di Kildare. La coppia non ha alcun tipo di legame con la Russia e neanche Anastasia ha dei parenti a cui manca, dato che è stata abbandonata. Tuttavia, i coniugi Kriegel pensano che per lei sia importante mantenere una forma di contatto con la sua cultura nativa. Dovrebbe essere orgogliosa delle sue origini russe e infatti, sulla scia di questo pensiero, loro non hanno voluto cambiare il suo nome. Quando Anastasia frequenta le elementari viene descritta come una bambina energica e vivace, anche se affetta da alcuni problemi di salute. Deve affrontare un intervento chirurgico dalla durata di 5 ore e mezza per rimuovere un tumore dall'orecchio destro, una condizione che le porta a un deficit all'udito, per cui Ana preferisce posizionarsi alla sinistra delle persone con cui parla, in modo da sentire meglio. Purtroppo Anastasia ha anche problemi di vista, inoltre fatica a ricordare le informazioni a breve termine. Nonostante le difficoltà, la piccola Ana è gioiosa, ama tantissimo cantare e danzare, infatti crescendo inizia a filmarsi mentre balla per poi postare le riprese su YouTube. In altri video caricati parla di moda e mostra il suo stile distintivo, adora tingersi i capelli e cerca modi alternativi per esprimere se stessa. Inoltre, come tante ragazze adolescenti, adora applicare le unghie finte, ascoltare musica e aggiornare quotidianamente i social media, con post e foto. Essere presente online per Ana è un modo innocente di connettersi con i suoi coetanei. Geraldine descrive sua figlia come una ragazza molto alta e forte, infatti pratica diversi sport, è una notatrice, una ginnasta e una sciatrice. Anastasia trascorre molto tempo, anche con suo padre Patrick, docente ormai in pensione, sempre presente per lei. La compagna la va a riprendere a scuola, le prepara il pranzo al sacco e l'aiuta a fare i compiti ogni giorno. Patrick afferma che gli anni in cui la figlia frequentava le scuole elementari sono stati più felici per lui. Non a caso, quando Anastasia aveva terminato le scuole elementari, Geraldine e Patrick avevano notato in lei un notevole cambiamento. La bambina si era confidata con uno dei suoi insegnanti di scuola, rivelando che spesso pensava al suicidio. Così il maestro si era sentito in dovere di informare i suoi genitori di questo allarmante stato mentale. Inoltre Anastasia stava lottando contro l'ennesima condizione di salute dolorosa. Le sue ossa crescevano più velocemente rispetto ai muscoli. Nonostante le avversità, sia mentali che fisiche, la ragazzina era davvero emozionata ad iniziare a frequentare le scuole medie e poi le superiori. Sentiva che finalmente stava cominciando a crescere, a diventare grande e questo la rendeva felice, anche se il cambiamento non entusiasmava molto i suoi genitori e la sua insegnante di sostegno. Anastasia è una ragazza gentile, un po' testarda, ma anche ingenua, il che non è necessariamente un difetto, specialmente a questa età. Ma la sua insegnante di sostegno teme che i compagni di classe delle superiori la considerino come una debolezza, che prendano il sopravvento su Anna e la bullizzino. L'insegnante quindi ne parla con Geraldine e Patrick e scopre che anche loro condividono questa preoccupazione. Tuttavia la figlia è così emozionata che non vogliono rovinare il momento. Anna, a 14 anni, è alta un metro e 73 centimetri, un'altezza da modella, per cui sembra molto più grande, ma chiaramente è ancora immatura data la sua età. Anche se Patrick e Geraldine non vogliono distruggere la positività di Anastasia non stanno con le mani in mano. Vanno a incontrare gli insegnanti e il preside della scuola, esprimendo le loro preoccupazioni sul fatto che la figlia potrebbe essere un potenziale bersaglio per i bulli, a causa della sua dolcezza e del suo fare infantile. Dei genitori premurosi chiedono ai docenti di assicurarsi che Anastasia possa vivere la scuola serenamente. Purtroppo i presentimenti dei genitori e della ragazza non sono infondati e questa consapevolezza si concretizza ancora prima dell'effettivo inizio del liceo. Durante l'estate, infatti, Anastasia sperimenta per la prima volta il bullismo online tramite il suo profilo di Snapchat. Alcuni utenti la bombardano e tormentano virtualmente con minacce e commenti di impronta sexuale. Si spingono addirittura a chiedere che venga giustiziata. Le dicono di ammazzarsi. Queste persone dai comportamenti a dir poco vergognosi la prendono in giro perché Geraldine e Patrick non sono i suoi genitori biologici. Ridono di lei perché è stata adottata e perché i suoi veri genitori in Russia l'avevano abbandonata. Anche la sua nazionalità è motivo di scherno per questi bulli da tastiera. Alcuni di loro frequentano il terzo anno delle scuole superiori, quindi sono più grandi di Ana. È chiaro che questi commenti sono davvero pesanti da sopportare dal punto di vista psicologico. Anastasia inizia a chiedersi ma io valgo davvero qualcosa dando retta a questi soggetti offensivi. Purtroppo lei non ha molti amici con cui sfogarsi o da cui ricevere supporto perché trascorre il suo tempo soprattutto con i cugini. Al liceo tutti fanno parte di un piccolo gruppo di amici mentre Anastasia si ritrova a camminare da sola nei corridoi della scuola. Amareggiata infine si confida con la mamma e il papà che agiscono immediatamente. Fanno anche degli screenshot di quei messaggi orribili che la figlia ha ricevuto sui social e li mostrano a scuola spiegando la situazione al preside. Gli chiedono dunque come intende agire per proteggere Ana. Sfortunatamente nessun provvedimento viene preso come se agli occhi del personale scolastico non ci sia niente da poter fare. Spesso le scuole sensibilizzano gli studenti sul bullismo. Gli insegnanti raccomandano i ragazzi di raccontare di qualsiasi episodio subito. Eppure troppe volte non viene fatto nulla di concreto. L'unica speranza a cui si aggrappano le vittime di bullismo è che i gradassi si dedichino ad altro o che il percorso al liceo finisca più presto. Il preside che ha letto i messaggi denigranti indirizzati ad Ana ha pure individuato i mittenti. E allora perché non ha preso qualche iniziativa? Non ha neanche parlato con questi ragazzi per invitarli a smettere di importunare Anastasia. Lei durante il primo anno di liceo nel 2017 è vittima di bullismo costantemente. Anastasia è sempre stressata e triste e Patrick soffre per il suo cambiamento. Fino a quando frequentava le medie Ana tornava a casa contenta. Era sempre di buon umore quando raccontava delle sue giornate scolastiche. Ora invece non ha più aneddoti felici da riferire. Spiega cosa le dicono e come la trattano i compagni di scuola più insensibili. I bulli la incolpano di essere strana e socialmente imbarazzante. Patrick e Geraldine sono davvero tanto arrabbiati. La loro amata figlia non è strana. Ha soltanto paura di essere se stessa, di lasciare emergere il suo lato divertente, di ridere e scherzare come amava fare prima, perché ora i suoi compagni di scuola non l'accettano. Sottolineo che Ana è una ragazzina meravigliosa e gentile con tutti, persino con chi la tratta malissimo, perché ha un buon cuore. Se i compagni l'accogliessero, invece di deriderla e offenderla, avrebbero un'amica preziosa al loro fianco, leale, empatica e cortese. Purtroppo gli studenti preferiscono affibbiarle il ruolo della ragazza strana, da cui è meglio stare lontano. E se qualcuno prova appena ad avvicinarsi ad Anastasia, riceve un avvertimento minaccioso. Anche lui o lei verrà bollezzato o bollezzata. Di conseguenza, Ana viene particolarmente isolata, eppure lei desidera con tutto il cuore far amicizia con qualcuno. Cerca comunque, per quanto possibile, di vivere le sue giornate con positività, tanto prima o poi tutte volgono al termine, e può tornare a casa nel suo rifugio, il suo posto sicuro dove essere se stessa, senza che nessuno la giudichi. La solitudine diventa una sua cara amica. Ana trascorre ore e ore da sola ad ascoltare la musica, a cantare, ad esercitarsi nella danza. Tuttavia, spesso non disdegna nemmeno le serate in famiglia, quando si siede con i genitori in salotto per guardare un film tutti insieme, sgranocchiando dei popcorn. Anche se, pure in questi momenti, Anastasia non riesce a sfuggire al bullismo online. I suoi genitori sono felici di passare del tempo con lei, ma chiaramente desiderano che i coetanei accettino Ana. Vorrebbero vederla uscire, andare in città con delle amiche o organizzare un pigiama party, come ogni ragazza adolescente. Un giorno Anastasia viene addirittura sospesa da scuola perché si è presentata con un trucco nero molto marcato applicato sugli occhi. A fronte di tutti i problemi che ha questa ragazzina, invece di punirla, sarebbe stato più saggio instaurare un dialogo con lei. Come vi ho già detto, Anastasia fin da piccola cerca di esprimere se stessa attraverso trucchi e vestiti. Dunque, se in precedenza a scuola non si era mai presentata truccata così, probabilmente lo ha fatto per manifestare qualcosa, in questo caso un profondo malessere. Lo stile per gli adolescenti è spesso un modo per comunicare qualcosa, ma nessuno, guardando Anastasia, si è chiesto che messaggio sta cercando di trasmettere. Sua madre Geraldine spiega che quella non era altro che una richiesta di aiuto. Anna stava esprimendo il suo disagio con quel trucco così marcato. Poco dopo si procura dei gravi su un braccio tramite le forbici. Si scopre pure, purtroppo, che Anastasia ha creato dei profili social falsi per bullizzare se stessa, usando un linguaggio offensivo, rivolgendosi tutta quella violenza verbale. Anche ciò è sentore di un disperato bisogno di aiuto. Nessuno in uno stato mentale di benessere farebbe una cosa del genere. Geraldine quindi chiede alla figlia tutte le password per accedere ai suoi profili social e ogni sera, prima di andare a dormire, li controlla. Monitora i messaggi provenienti dai bulli, ma si assicura anche che Anastasia non stia sommergendo di insulti se stessa. La salute mentale della ragazzina è sempre più a rischio, così i suoi genitori chiedono aiuto al Calder Youth Service e Ana inizia a sostenere delle sessioni di consulenza con uno psicologo. Chi la conosce afferma che riesce a fare grandi progressi, che sta davvero cercando di prendersi cura di se stessa, del suo benessere mentale. Arriviamo alla mattina del 14 maggio 2018. Anastasia chiede a sua mamma una giustificazione che le permetta di uscire prima da scuola, dato che ha in programma una seduta con lo psicologo. Non vuole pranzare alla mensa, bensì a casa, dopodiché va all'appuntamento con il consulente e una volta rientrata prepara uno spuntino e passa un po' di tempo nella sua camera. Come ogni giorno Ana è in contatto con sua mamma, quindi prova a telefonarle alle 16.02. Tuttavia Geraldine sta partecipando a una riunione di lavoro e non può rispondere. Così manda alla figlia un messaggio scrivendole che è molto impegnata e che la richiamerà non appena sarà finita la riunione. Patrick invece è a casa. Si sta godendo il bel tempo seduto su una sedia nel giardino sul retro quando un ragazzo di 13 anni bussa alla sua porta. Il ragazzo frequenta la stessa scuola di Anastasia, ma la sua identità non è stata rivelata al pubblico in quanto è minorenne. La stampa si riferisce a lui come ragazzo B, quindi è così che lo chiamerò per il resto del video. La visita del ragazzo B è totalmente inaspettata e lui chiede a Patrick se Anastasia sia in casa. L'uomo prova una strana sensazione, proprio perché è insolito che i ragazzini chiedano di sua figlia. Tuttavia è molto felice per lei. Forse qualcuno si è reso finalmente conto che la sua bambina è speciale. Patrick quindi chiama Anastasia avvisandola che il ragazzo B chiede di lei. Anna scende le scale ma sembra piuttosto confusa quando lo vede. Come domandarsi, che ci fa lui qui? Nonostante lo stupore si avvicina alla porta e fa entrare il ragazzo in casa. Patrick vuole lasciarli chiacchierare, si allontana e sente Anastasia sussurrare qualcosa al suo ospite, quindi intuisce che la figlia non vuole che lui ascolti la loro conversazione. Anastasia corre nella sua camera, indossa una felpa con cappuccio, poi esce di casa con il ragazzo B. Suo padre però le raccomanda di non rientrare troppo tardi perché deve studiare e Anastasia lo rassicura. Quando ormai si è allontanata, Patrick si rende conto che non le ha chiesto dove sarebbe andata, così si precipita oltre la porta e la vede dirigersi verso il St. Catherine's Park. Il ragazzo B sta camminando davanti a lei, indossa uno zainetto sulle spalle e sembra che i due non stiano parlando. Geraldine rincasa un po' prima del previsto, si reca nel giardino sul retro e vede Patrick che si sta ancora rilassando, approfittando del bel tempo. Geraldine gli chiede dove sia Anna e il marito gli spiega che il ragazzo B è passato di lì per invitare la figlia a uscire. È ancora incredulo ma felice, mentre Geraldine è tutt'altro che contenta. Sa che quel ragazzo non è amico di Anastasia, neanche può definirsi un suo conoscente. La donna è preoccupata, nessuno si era mai interessato ad Anna, nessuno le aveva mai chiesto di uscire prima d'ora. Trova molto strano che questo ragazzo sia improvvisamente apparso fuori dalla sua porta di casa per vedere la figlia. Poco dopo le 17.30, Geraldine manda un messaggio imperativo ad Anastasia scrivendole, torna a casa. Adesso non riesce proprio a tranquillizzarsi, è irrequieta perché avverte che qualcosa non va. Anastasia solitamente risponde subito ai messaggi, tiene aggiornata la sua famiglia, ma stavolta Geraldine non riceve prontamente risposta. Qualche minuto dopo manda un altro messaggio alla figlia scrivendole rispondimi subito o chiamo la polizia. Anastasia si è allontanata da casa da circa mezz'ora, ma Geraldine ormai è fuori di sé. Sua figlia continua a non rispondere ai messaggi, così lei decide di fare una passeggiata fino al St. Catherine Park. Quando arriva vede un gruppo di bambini che gioca e diverse persone che portano i cani a passeggio. Cammina un po' in giro, ma non c'è nessuna traccia né di Anna né del ragazzo B. La donna è spaventata, ma sa che razionalmente la sua paura potrebbe derivare dal fatto che Anastasia non è abituata a uscire e a passare del tempo con qualcuno. La donna così cerca di calmarsi, torna a casa, cena, ma non riesce a scrollarsi di dosso questa spiacevole sensazione. Percepisce che sua figlia è in pericolo. La ragazzina, sì, adora fare lunghe passeggiate e le faceva sempre da sola con le cuffiette alle orecchie per ascoltare la sua musica preferita. Dunque forse Anastasia è rimasta per un po' in compagnia del ragazzo B, ma poi si sono separati e lei ha deciso di proseguire la camminata. Ipotizza. Così Geraldine esce di nuovo di casa per cercare Anastasia, ma questa volta si sposta in macchina. Tuttavia, di nuovo, non la trova da nessuna parte. Quando Geraldine rincasa, lei e Patrick accedono su Facebook per cercare di risalire il cognome del ragazzo B e provare a localizzarlo, così da chiedergli dove fosse e se stesse ancora con la figlia. Riescono a individuare il cognome e fanno qualche telefonata nel tentativo di scoprire quale sia il suo indirizzo di casa, sperando di poter parlare con lui o i suoi familiari. Ma nessuno dice ai coniugi dove abita il ragazzo B. I genitori di Anastasia, sempre più preoccupati, si rivolgono a un loro amico, un detective in pensione che si chiama John Cribbin. Il detective suggerisce ai coniugi di contattare immediatamente la Garda, il corpo di polizia della Repubblica Irlandese. La giovane Ana è scomparsa da quattro ore quando i genitori contattano la polizia, riferendo il nome e il cognome di questo ragazzo, e gli agenti vanno immediatamente a casa sua per parlargli. Il ragazzo B conferma che era con Anastasia, avevano fatto una passeggiata nel parco e chiacchierato un po'. Poi lui l'aveva salutata ed era tornato a casa per le 17.40. Questo resoconto è preoccupante per i genitori di Anastasia. Se il ragazzo B si è separato dalla figlia a quell'ora, perché lei non è ancora tornata a casa? Non c'è niente che li porti a pensare che Ana potrebbe essere insieme a qualcun altro e di lei non c'è traccia. Dove potrebbe essere andata? Trascorre una notte intera e la mattina dopo Anastasia non è ancora rincasata. Patrick e Geraldine sono sempre più angosciati, provano una sensazione orribile alla bocca dello stomaco. La polizia intanto torna a casa del ragazzo B per fargli altre domande. Per caso Anastasia gli aveva detto che avrebbe dovuto incontrare qualcun altro? Il ragazzo B allora rivela che era andato a prendere Anastasia per portarla da un altro ragazzo tredicenne che chiameremo ragazzo A. Era lui che voleva vedere Ana. Anastasia aveva pure una cotta per il ragazzo A e lui voleva parlarle di persona per dirle gentilmente che non era interessato a lei. La domanda però sorge spontanea. Se questi sono i fatti perché il ragazzo B non l'ha detto prima? Gli agenti gli chiedono di andare con loro nel parco affinché lui mostri il punto esatto in cui aveva salutato Anastasia e dove lei si era incontrata con il ragazzo A. La polizia contrassegna queste posizioni su GPS di tetraradio. Poi martedì 15 maggio rilascia la foto di Anastasia dei vestiti che indossava quel pomeriggio e fornisce una descrizione dettagliata al pubblico chiedendo informazioni a chiunque l'avesse vista il giorno della sua scomparsa. Dopodiché la polizia torna nel parco sia con il ragazzo A che con il ragazzo B. Il ragazzo B prende l'iniziativa e segnala nuovamente il percorso che avrebbe indicato alla polizia la volta precedente. Tuttavia gli agenti della garda si accorgono che lui li sta conducendo su una strada diversa così decidono di portare sia il ragazzo B che il ragazzo A in centrale e far loro delle domande. Il ragazzo B non cambia la versione dei fatti attenendosi alla storia già raccontata mentre il ragazzo A afferma che Anna gli aveva chiesto di uscire e lui gli aveva parlato gentilmente per spiegarle che non era interessato a lei. A quel punto sempre stando alle parole del ragazzo Anastasia si era rattristata e infuriata quindi era andata via. Dopo che si era allontanata il ragazzo A aveva ripreso a camminare nel parco per dirigersi verso casa propria ma era stato aggredito da due uomini adulti che lo avevano ferito anche se lui alla fine era riuscito a respingerli. Le ferite che riporta il ragazzo A sono coerenti con la sua storia però lui mentre le ripercorreva sembravano narrare un racconto di fantasia come se fosse in atto un gioco una recita in cui interpretava il ruolo del personaggio forte e imbattibile. Chiaramente la polizia deve analizzare la situazione con realismo. Il 13enne era davvero stato aggredito da due uomini adulti ed era riuscito a difendersi a ferire e a mettere in fuga entrambi. Non sembra una storia veritiera ma gli agenti lo assecondano chiedendogli di descrivere i due aggressori al fine di elaborare un identikit. Poi controllando i filmati delle telecamere di sorveglianza non individuano nessuno che corrisponda alle descrizioni del ragazzo A proprio come se questi delinquenti non fossero mai esistiti. Mercoledì 16 maggio 2018 la paura che provano la famiglia di Anastasia e l'intera città è evidente. Temono ormai che la ragazza sia stata aggredita, ferita gravemente o peggio, uccide. Purtroppo mercoledì 17 maggio questi timori vengono confermati con la scoperta del corpo di Ana a Glenwood House, una vecchia e grande casa abbandonata che si trova a Lucan, vicino Doblino. Uno dei poliziotti spezionando quella che in seguito verrà chiamata la stanza numero uno, nel buio ha intravisto una figura e ha creduto che fosse un manichino. Ha chiamato il detective a capo delle ricerche che l'ha raggiunto nella camera e ha esaminato la figura scoprendo che non era affatto un manichino ma il cadavere di Ana Kriegel. Addosso soltanto dei calzini neri il suo telefono è lì vicino e i suoi vestiti sono sparsi intorno a lei. Non troppo lontano su un grande blocco di cemento e sopra un bastone si notano degli schizzi di sangue. La polizia individua del nastro isolante avvolto attorno al collo della ragazzina. Due delle sue dita sono incastrate proprio sotto il nastro, come se avesse cercato di rimuoverlo. Dopo aver esaminato il cadavere i detective contano circa 55 lacerazioni sul corpo della vittima, per la maggior parte alla testa. Gli unghie finte che Ana ne indossava sono sparse qui e lì per la stanza e lei ha molti lividi da difesa sulle mani e sugli arti. Questo significa che aveva provato a combattere con tutta se stessa per avere salva la vita. Con orrore la polizia scopre che la ragazza era anche stata aggredita intimamente. A seguito dell'autopsia viene determinato che Anastasia presenta fratture multiple in tutto il corpo. Riporta quattro lacerazioni sulla parte posteriore della testa, causate da impatti molto gravi e separati. Ulteriori lacerazioni multiple le segnano collo e viso, dove si evidenziano anche lividi, una frattura all'orbita di un occhio e un'altra frattura alla mascella superiore. Quella sera stessa i genitori di Anastasia avevano lo strazio di identificare formalmente la figlia. Dall'esame della scena del crimine e dalla ricostruzione elaborata, gli inquirenti sospettano che Anastasia fosse stata aggredita mentre entrava nella stanza vicino alla porta. Poi era stata trascinata più in fondo nella camera. L'aggressione era continuata e Anastasia, riversa sul pavimento, era stata picchiata con il bastone ritrovato sul luogo del delitto ed era stata ripetutamente colpita alla testa anche con quel blocco di cemento. Aveva perso un'enorme quantità di sangue che si era sparso su tutte le pareti. La ferocia dell'attacco era stata grave e prolungata. Viene stabilito che Anastasia è deceduta per un trauma contusivo alla testa e al collo, ma non causato dal nastro isolante, bensì da una sfissia compressiva. I lividi che la vittima riporta intorno all'osso pubico confermano tristemente che aveva subito violenza intima. Secondo il medico legale, probabilmente Anastasia era incosciente durante l'assalto. Il funerale di Anastasia ha luogo il 31 maggio 2018 a Dublino. I suoi genitori, in memoria della ragazza, chiedono a tutti i partecipanti di indossare brillantini e colori scintillanti. Una bandiera russa e una matrioska vengono poste sulla bara insieme a una tour Eiffel in miniatura, perché Anna aveva amato la vacanza in Francia fatta con i suoi genitori. Intanto il ragazzo A e il ragazzo B restano gli unici sospettati nelle indagini della polizia, che controlla i filmati stradali di videosorveglianza. Ore e ore di riprese, fin quando non individua un adolescente che sembra il ragazzo A. Si trova proprio nelle vicinanze del St. Catherine's Park e sta avanzando in direzione di Glenwood House con uno zainetto in spalla. Un testimone in seguito confermerà di aver visto un adolescente che poco dopo camminava in mezzo a un campo, dirigendosi verso una casa abbandonata. Più o meno nello stesso momento, altre riprese delle telecamere di videosorveglianza immortalano il ragazzo B e Anastasia mentre avanzano verso il St. Catherine's Park. Circa un'ora dopo, sia il ragazzo I che il ragazzo B vengono ripresi da una telecamera mentre si allontanano dal parco. La polizia rinterroga dapprima il ragazzo B e gli mostra la foto della scena del crimine dove appare anche il corpo di Anastasia, sebbene pixelato. L'adolescente allora, riferendosi al ragazzo A, esclama «Gesù, è uno dei miei più cari amici» e sembra scioccato. A questo punto confessa. Ammette di aver portato Anastasia nella casa abbandonata e di averla lasciata lì con il ragazzo A, il quale gli aveva detto di andarsene. Lui si stava effettivamente allontanando, però poi aveva deciso di tornare indietro perché sentiva dei rumori strani provenire da un'altra stanza. Aveva dato un'occhiata e aveva visto il ragazzo A che gettava a terra Ana tramite una mossa di judo, sport che pratica da anni. Poi aveva cominciato a soffocarla e strapparla i vestiti, mentre lei lo implorava di fermarsi. A un certo punto sia il ragazzo A che Anastasia si erano voltati e lo avevano visto osservare la scena. Così il ragazzo B era scappato. Dice che mentre correva via aveva sentito un urlo fortissimo lanciato da Ana, che poi però era stato soffocato, come se il suo aggressore le avesse coperto la bocca. Anche se il ragazzo B sta fornendo tutte queste informazioni, gli investigatori non credono che stia dicendo la piena verità. E hanno ragione, perché poi fornisce ulteriori dettagli a un medico dicendo chi aveva visto il ragazzo A in piedi sopra Anastasia con i pantaloni sbottonati. Riferisce di aver visto Anastasia ansimare. Era morta poco dopo. Il 23 maggio 2018 i genitori di entrambi i minorenni vengono informati formalmente che i loro figli sarebbero stati arrestati il giorno seguente. I genitori chiedono se possono portare loro stessi i figli alla stazione di polizia la mattina successiva. Dopodiché A e B vengono arrestati e accusati dell'omicidio di Anna Kriegel. Inoltre il ragazzo A viene accusato anche di violenza intima aggravata. Entrambi si dichiarano non colpevoli. Dopo l'arresto, il 24 maggio, la polizia perquisisce le case dei due adolescenti trovando in camera del ragazzo A uno zainetto. È lo stesso che aveva sulle spalle quando era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. All'interno trovano una maschera, dei guanti di lana, delle ginocchiere e dei parastinchi di plastica, uno scaldacollo e una cuffia di lana. Tutti gli oggetti sono rigorosamente di colore nero. La polizia crede che il contenuto di questo zaino corrisponda al kit per commettere l'omicidio. Gli agenti a casa del ragazzo A trovano anche un libro comprendente una promessa satanica. Il giudice intanto vieta l'identificazione degli indagati perché risultano ancora innocenti fino a prova contraria. Questo ordine però viene ignorato dai cyber vigilantes. Con il vigilantismo digitale ci si riferisce alle pubbliche denunce punitive volti a influenzare l'opinione pubblica al fine di ottenere una sorta di giustizia dei cittadini. Le foto e i nomi dei ragazzi vengono così diffusi tramite Facebook e Twitter. Con un'ingiunzione si ordina alle piattaforme di rimuovere tutti i post e i rappresentanti delle aziende sono obbligati a presenziare a un'udienza affrontando potenziali accuse di oltraggio alla corte dato che avevano consentito la pubblicazione di informazioni riservate. Tuttavia gli esponenti di queste aziende sostengono che non potevano impedire la pubblicazione delle informazioni proprio a causa delle restrizioni sulla segnalazione in quanto non conoscevano mica i nomi degli indagati. Quindi non avrebbero potuto sapere chi e cosa bloccare esattamente. Intanto la polizia interroga più volte il ragazzo A sulla morte di Anastasia ma lui continua a negare qualsiasi responsabilità. La polizia preleva alla casa del ragazzo A le calzature che aveva indossato quel pomeriggio. Vi ricordo che aveva affermato di essere stato picchiato da due uomini adulti al parco. Quando queste calzature vengono analizzate emergono tracce del sangue di Anastasia quindi i detective informano il ragazzo A del risultato ma lui esclama state scherzando? Siete seri? Davvero? Uno dei detective lo guarda e gli risponde sì ragazzo siamo sicuri sei stato ripreso dalle telecamera a circuito chiuso mentre indossavi lo stesso zaino che abbiamo trovato nella tua stanza con dentro il kit per commettere l'omicidio. E sulle scarpe che indossavi quel giorno sono state rilevate tracce di sangue della persona che hai ucciso. Sono elementi alquanto implicanti non credi? Il ragazzo per la maggior parte dell'interrogatorio o non risponde ai detective oppure afferma di non sapere nulla. Nel frattempo anche nello zaino del ragazzo A si rileva una macchia di sangue appartenente ad Anastasia. E se questo non fosse abbastanza incriminante la scientifica trova pure le tracce di liquido seminale del ragazzo A sulla maglietta strappata di Anastasia. Eppure il ragazzo A dovete sapere che non rispecchia il tipico profilo di un sospettato di omicidio. Proviene da una famiglia della classe media, vive in un ambiente domestico stabile e i suoi insegnanti lo descrivono come uno studente cortese e intelligente. Eppure sotto questa maschera di stabilità e moralità si cela il lato scuro della sua natura. Adesso facciamo un piccolo passo indietro. Quando il ragazzo A aveva detto di essere stato aggredito da due uomini adulti nel parco la polizia gli aveva sequestrato il telefono per cercare qualche dato riguardante l'aggressione. Invece analizzando il cellulare aveva trovato dei risultati di ricerca su internet davvero preoccupanti. Il ragazzo A aveva consultato online i 15 metodi di tortura più raccapriccianti della storia e aveva cercato Jeff the Killer, un personaggio immaginario, un serial, protagonista di alcuni racconti dell'orrore e videogiochi. Inoltre la maggior parte delle ricerche riguardavano i luoghi abbandonati di Lucan. Tra i risultati spiccava la Glenwood House dove è stato trovato il corpo senza vita di Anastasia. Ma non è finita qui perché oltre al telefono la polizia gli sequestra anche un disco rigido esterno nel quale trova ben 12.000 immagini esplicite che raffigurano scene di violenza intima. Il processo di entrambi gli imputati inizia il 29 aprile 2019. Siccome in Irlanda l'età della responsabilità criminale si raggiunge a 12 anni o scende a 10 nei casi di violenza intima e omicidio i due tredicenni sono penalmente responsabili e possono essere processati. L'accusa sostiene che il ragazzo A e il ragazzo B avevano escogitato insieme un piano per uccidere Ana. Quindi il ragazzo B l'aveva attirata nella trappola mentre il ragazzo A l'aveva aggredita. Aveva compiuto l'atto di violenza e l'omicidio. Tuttavia il ragazzo B era suo complice. Aveva assistito alla sopraffazione intima e al delitto e non aveva fatto nulla per fermarli. Anzi aveva incoraggiato il ragazzo A ad andare fino in fondo quindi è ugualmente responsabile. Il ragazzo A continua a sostenere la propria innocenza di conseguenza non esprime alcun rimorso. Mantiene questa posizione persino davanti a delle prove forensi schiaccianti quando non può più negare la sua presenza in quella casa abbandonata dove Anastasia aveva trovato la morte. Tuttavia i suoi avvocati difensori affermano che era scoppiato un litigio tra lui e Anastasia. Dicono che il ragazzo A non aveva intenzione di ucciderla, che non voleva causarle alcuna ferita grave ma si era verificato un tragico incidente. Oltre a ciò ritengono che tra lui e Ana ci fossero stati dei rapporti intimi consensuali come se quella subita da Ana prima di essere uccisa non fosse stata una violenza. In questo scenario quindi non viene negato il fatto che l'imputato si trovasse sulla scena del crimine ma il modo in cui si sono svolti gli eventi. La difesa in sostanza sta cercando di confondere la giuria per instillare il ragionevole dubbio. Quanto alla difesa del ragazzo B questa afferma che lui aveva sofferto di disturbo post-traumatico da stress dopo aver assistito all'aggressione di Ana. Ora, il disturbo da stress post-traumatico è una condizione di salute mentale causata da un evento estremamente stressante o terrificante a cui si partecipi in prima persona o come testimoni. I sintomi possono includere flashback incubi, grave ansia e pensieri incontrollabili sull'evento. L'argomentazione che gli avvocati difensori portano avanti è che l'imputato fosse così stordito e scioccato da ciò che aveva visto da essere indotto a mentire. Insomma, nella sua mente non riusciva a contemplare la possibilità che il ragazzo A avesse effettivamente ucciso Ana. Dunque lui si era convinto che non l'avesse portata in quella casa abbandonata con l'intenzione di farla ammazzare ma per farla semplicemente incontrare con il suo amico, il ragazzo A. Aveva voluto credere che lui stesse scherzando quando aveva espresso il desiderio di assassinare Anastasia. Così, osservando l'aggressione che si svolgeva davanti ai suoi occhi, il ragazzo B era rimasto traumatizzato, incapace di pensare lucidamente. Ecco perché aveva mentito all'autorità. Peccato che il disturbo da stress post-traumatico non si verifichi così. Non porta il soggetto che ne soffre a mentire all'autorità. Sì, è possibile che generi un impatto importante sulla memoria ma di solito questo disturbo viene diagnosticato tra i 6 e i 12 mesi dopo l'evento. Insomma, la difesa vuole convincere la giuria che il ragazzo B non sapesse degli intenti omicidi da porre in atto. Il 18 giugno 2019 la giuria va a deliberare e impiega 14 ore per elaborare il verdetto. Il ragazzo A viene ritenuto colpevole dell'omicidio di Anastasia e della violenza intima. Nel novembre del 2019 viene condannato all'ergastolo con un minimo di 12 anni per la possibilità di una revisione e riceve un'ulteriore condanna a 12 anni per l'aggressione intima aggravata, quindi una pena detentiva totale di 24 anni. Quando viene pronunciata la sentenza il ragazzo A scoppia a piangere e stringe forte la mano di suo padre. Il ragazzo B invece viene dichiarato colpevole dell'omicidio di Anastasia e condannato a un minimo di 8 anni e a un massimo di 15 anni. Così dopo soli 8 anni nel 2027 potrà provare a richiedere la libertà vigilata. Quando viene pronunciata la sentenza il ragazzo B va ad abbracciare i genitori e tiene la testa bassa. Suo padre esce dall'aula ma poi rientra, applaudi lentamente e si congratula con la corte per aver mandato in prigione un ragazzo innocente. A dirla tutta il ragazzo B in diversi momenti avrebbe potuto impedire quell'aggressione, avrebbe potuto parlare con un insegnante, rifiutarsi di andare a prendere Anastasia a casa per poi condurla in una trappola mortale, intervenire invece di guardare il ragazzo A che uccideva Ana, ma non ha fatto niente di tutto questo. Ha preferito scappare via e non ha avuto alcun ripensamento nemmeno quando ha sentito Ana urlare. Il ragazzo A e il ragazzo B sono le persone più giovani nella storia irlandese a essere condannate per omicidio. Quando verranno rilasciati gli saranno pure offerte delle nuove identità, quindi trascorreranno un periodo di tempo in prigione ma poi torneranno liberi e nessuno conoscerà gli orrori che hanno inflitto a una ragazzina innocente. Nessuno saprà che sono due assassini. Inoltre la giuria che ha valutato i dettagli di questo caso sarà isonerata da qualsiasi ulteriore processo ai condannati per il resto delle loro vite. È molto raro che venga presa una decisione del genere, ma i giurati sono rimasti fortemente traumatizzati dalla ferocia di questa vicenda. Ora passiamo alle conclusioni. L'omicidio di Ana è un crimine che ha sconvolto l'intera Irlanda. Molti irlandesi si vergognano profondamente per ciò che è successo alla quattordicenne russa. All'età di due anni le era stata data l'opportunità di avere una nuova vita con due genitori amorevoli e lei voleva semplicemente essere accettata, avere degli amici. Invece era stata pesantemente bullizzata e poi persino brutalmente violata e assassinata. Anastasia avrebbe sicuramente fatto grandi cose nella vita. Era una ragazza dinamica, piena di sogni e speranze. Mi chiedo, se la scuola fosse intervenuta il bullismo sarebbe cessato? Ana sarebbe riuscita a farsi qualche amica? Qualcosa in questa storia sarebbe cambiato? Dopo la condanna i genitori di Anastasia, Geraldine e Patrick le hanno reso omaggio dedicandole queste parole. Ana era un sogno diventato realtà per noi e sarà così per sempre. Purtroppo per Geraldine il dolore non finisce qui perché nel giugno 2022 Patrick viene a mancare appena quattro anni dopo la morte di Ana. Molti credenti che hanno seguito il caso sostengono che ora Patrick e Ana stiano insieme, che un giorno Geraldine si unirà a loro e vivranno felici per sempre. Confesso che questo per me è stato un caso difficile da approfondire e raccontare perché mi addolora che dei ragazzini così giovani possano uccidere e in modi talmente brutali. È sconvolgente, non comprendo come pensieri così oscuri possano insinuarsi nella mente di due tredicenni, tra l'altro descritti da chi li conosceva come ragazzini educati e studiosi. In fondo in fondo comprendo anche i sentimenti del papà del ragazzo B che rientrando in aula dopo la pronuncia della sentenza ha affermato che la corte aveva condannato un innocente. Suo figlio nei fatti non aveva ucciso materialmente Anastasia né l'aveva aggredita, però era lì. L'aveva attirata in quella casa con l'inganno e non aveva fatto niente per tentare di salvarla. Questo lo rende colpevole. Dunque secondo me giustizia è stata fatta. Spero che questi due ragazzi vengano riabilitati anche se a essere onesta una parte di me pensa sia difficile riabilitare coloro che commettono crimini intimi e omicidi così brutali in giovanissima età. Chiaramente magari mi sbaglio e se mi sbagliassi sarebbe solo una cosa positiva quindi va bene così. Ora sono curiosa di sapere cosa ne pensate voi di questa storia? Come trovate le pene inflitte? Secondo voi sono giuste o i due ragazzi meritavano di scontare più anni in prigione? Cosa ne pensate del fatto che le loro identità non sono mai state rivelate? E a proposito di identità anche del fatto che otterranno una nuova identità quando usciranno dal carcere? Voi credete nella riabilitazione dopo aver commesso crimini come quello che ha subito la povera Anastasia? Fatemi sapere tutto quello che pensate quali sono i vostri pensieri qui sotto nei commenti. Io sono davvero sempre molto molto felice di leggervi tutti e tra l'altro alcuni di voi li leggo costantemente sotto i video e mi rendo conto che hanno un'empatia spiccata e per me è una vera gioia. È una vera gioia perché sento che i sentimenti che proviamo sono in un certo senso condivisi, sono gli stessi. Io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Grazie a tutti!